Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Anna Falcone, attivista politica, giurista e comunque donna di sinistra. Buonasera Massimo Giannini, direttore della stampa. Buonasera Francesco Specchia, editorialista di Libero e buonasera prefetto Mario Morcone, assessore alla sicurezza della regione Campania e ex braccio destro del ministro Minniti sull'immigrazione. Allora, vi aggiorneremo perché stanno parlando in questo momento i ministri Giorgetti e Piantedosi sui due temi di cui si è occupato il Consiglio dei Ministri, la Nadef e il quarto decreto immigrazione. Vi daremo ulteriori dettagli subito dopo la pubblicità. Allora, Massimo Giannini, stanno ancora parlando i ministri Giorgetti e Piantedosi sulle misure del Consiglio dei Ministri. Sappiamo e è accertato che c'è un nuovo decreto del governo sull'immigrazione, sarebbe il quarto e tutto all'insegna di nuove strette, nuovi inaspimenti ed espulsioni più facili. Intanto c'era bisogno di un altro decreto per riuscire a gestire il fenomeno dell'immigrazione, questa fase emergenziale? Ad aprile Papa Francesco aveva parlato dei migranti come dei cristi invisibili respinti in guanti bianchi. Qui da quando c'è questo nuovo governo restano i cristi invisibili, restano i respingimenti, ma si sono tolti i guanti bianchi perché in realtà si sono messi il pugno di ferro. Anche questo quarto decreto che contiene misure, poi leggeremo i testi, si capirà anche il profilo di legittimità costituzionale di alcune norme, ma nei confronti di minori... Soprattutto quelle che riguardano i minorenni. Ma non c'è dubbio, sì, cade la presunzione della minore età che il minore dovrà dimostrare esibendo un documento che quasi mai questi poveri ragazzi hanno e se non è in grado appunto di dimostrarlo subisce visite mediche di vario genere, alla fine delle quali se non è minorenne viene espulso subito e così via altre misure. Però il Ministro Piantedosi l'ha detto poco fa che le tutele per i minori restano. Sì, vedremo quali sono, non capisco quali sono, vedremo quali sono, ma a parte questo... Ma si diranno loro chi sono i minori e chi no, è questo il problema. Però a parte questo voglio concludere rapidissimamente sul punto. Alla fine tutto quello che sta facendo questo governo, se lo guardiamo sul piano dell'efficacia, è totalmente contraddittorio perché questo pugno di ferro non sta bloccando gli arrivi, che è in realtà il vero elemento che Meloni si propone, la deterrenza. No, continuano ad arrivare in continuazione, loro danno la colpa a Soros, agli spagnoli, ai tedeschi, a tutti quelli che vogliono, però continuano ad arrivare. Quindi questo dal punto di vista dell'efficacia non c'è. Abbiamo un gigantesco problema di forza lavoro che manca e di calo demografico. Invece di trasformare, di costruire nuovi campi di prigionia, perché questo è i nuovi CPR che vogliono costruire, perché non li trasformano in centri di accoglienza per integrare queste persone, con dentro delle scuole, gli insegnano la lingua, gli insegnano la Costituzione e gradualmente invece di tenerli 18 mesi dentro senza aver commesso alcun reato, cosa onestamente incostituzionale, pongono le premesse perché questa gente possa integrare. Non lo fanno e quindi continuiamo a fare la faccia feroce senza respingere nessuno, ma imprigionando tutti. L'Italia diventa un gigantesco campo di concentramento. Auguri. Prefetto Morcone, lo chiedo a lei che è stato braccio destro del Ministro Minniti sull'immigrazione e che quindi conosce il tema molto bene. Qui siamo di fronte a un decreto pragmatico o ideologico e da un punto di vista tecnico le espulsioni più facili. Che cosa vuol dire? Dove rimpatriamo quelli che devono essere espulsi tra i migranti illegali? Intanto mi faccio dire che oltre a essere collaboratore di Minniti sono stato capodipartimento Libertà Civile e Immigrazioni al Ministero per dieci anni. E quindi ho conosciuto la politica di Maroni, anziché quella di Amato, quella di Alfano per poi arrivare a Minniti. La politica che questo governo sta mettendo in piedi è assolutamente bella Italia. Non mi pare che ci sia nessuna possibilità di aumentare i rispingimenti coattivi, i cosiddetti coattivi, che più o meno aggiungono le 3.000-3.500 persone l'anno rispetto al numero di ingressi. Ha ragione il Direttore Giannini, dovremmo occuparci invece di una buona accoglienza e soprattutto occuparci dei minori, perché anche come ha detto la Presidente Meloni certamente non risolvono il problema della denatalità, ma sono in grado sicuramente di mitigarne in parte gli effetti. E ormai è una certezza che nessuno può dubitare del fatto che c'è grande bisogno di forza lavoro in Italia e in tutti i settori produttivi, dall'agricoltura all'aiuto alle famiglie, dall'edilizia al turismo. Quindi secondo lei questo quarto decreto sull'immigrazione non funzionerà? Non serve a niente, serve solo a fare la faccia cattiva, come hanno fatto fino adesso, a sventolare la bandiera e ti grignare i denti. Invece è molto più interessante l'attività che il governo e la Presidente Meloni sta facendo sul piano internazionale. Ecco, quello è molto più interessante. Ci arriviamo, ma voglio prima chiedere a Francesco Specchia, dice il prefetto Morcone che se ne intende, veramente, che è velleitario questo quarto decreto immigrazione. Tu hai capito dove vengono espulsi gli immigranti che non possono stare in Italia? Questa è una parte del decreto che deve essere ancora analizzata. Io ho letto in anteprima ovviamente alle bozze, faccio notare che la pur attenta analisi del prefetto Morcone è, come dire, striata di un po' di politica, perché non è un esame tecnico quella che ha fatto, ma ricordiamo che il prefetto Morcone, ma ad onor del vero, ha attraversato molti governi ma è stato più volte candidato per il centro-sinistra. Quindi l'analisi è strettamente politica, anche perché quella tecnica richiederebbe una lettura del testo che il prefetto Morcone evidentemente non ha fatto. No, 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 però scusami, abbiamo detto, scusami, per essere concreti, scusami Francesco, allora intanto sulla competenza del prefetto Morcone direi che non abbiamo assolutamente niente da dire. Io ti ho chiesto, siccome anche noi abbiamo letto anticipazioni, posticipazioni del decreto, non abbiamo capito dove verranno espulsi gli immigrati illegali. Però se ci sono delle cose sbagliate, sì, poi te le sto dicendo, ma io faccio notare anche a Massimo, con tutto il rispetto, che è anche il prefetto Morcone, perciò mi hai bloccato prima, fammi finire il discorso, che oggettivamente da qui, da tre mesi a questa parte, ad oggi, sono stati introdotti nel nostro tessuto produttivo, soprattutto nel nord-est, immigrati perfettamente regolari, nella misura di 95 mila prima di luglio e 120 mila in questo momento, saranno 137 mila a fine anno e 153 mila al prossimo anno, cioè rientrano nel piano di integrazione del tessuto connettivo della nostra industria che ha previsto questo governo. Francesco, ma questo è un decreto flussi exposti che hanno fatto già altri governi, stiamo parlando di un'altra cosa? Ma ci sono, ma i dati, sì, infatti, ti sto dicendo che i dati sono questi, quando tu mi... Massimo, quando tu mi dici, no, ma però se tu mi dici che abbiamo bisogno di gente per lavorare, integrarli, si stanno già integrando da soli. Ma questa è gente che sta qui da mesi, da anni, stiamo regolarizzando situazioni di fatto, è diverso il discorso. Allora, quindi abbiamo risolto il problema? No, sono quelli che sono arrivati. Lasciamo finire Specchia? No, non abbiamo risolto il problema, ti sto dicendo, non abbiamo... Però se mi fate finire... Lasciamo finire Specchia? Non si risolve, perché non si ferma il vento con le mani, ovvio, è un problema endemico che dura da dieci anni a questa parte e che ha attraversato tutti i governi. Ma questo è sicuramente, c'è il trattato di Dublino, bisogna riformare tutto, eccetera. Però, guardando nello specifico la bozza, ti dico che, al di là del fatto che non si sa quello che diceva lì, se tu mi vuoi la risposta, dove torneranno? Dovrebbero tornare nei luoghi di origine una volta che si è accertata con un'azione antropometrica l'età del dichiarante, bisognerà constatare se ha una fedina penale pulita o sporca, constatare se si è reso colpevole di reati. Tutto questo rappresenta la stretta cosiddetta del governo. Ma io non ci vedo onestamente lo statuto dell'HIN, perdonatemi, perché ho letto tutto, c'è da dire anche che oggettivamente ha ragione sia Morcone che Giannini quando dice che ci vorrebbe una situazione strutturale di risoluzione dei problemi e ce l'aveva per esempio Milena Gabanelli. Il caso che avete fatto voi, che ha fatto Massimo, era la teoria della Gabanelli che proprio su queste reti aveva dato un lampo, aveva detto noi rendiamo l'Italia hub strategico europeo dato che non possiamo fermare dei migranti. Li salviamo, li prendiamo, li classifichiamo, li istruiamo, gli diamo dei titoli di studio e poi noi stessi li smistiamo verso gli stati che richiedono lavoro. Però veniamo pagati per questo. Oh, non l'hanno filata di pezza. Però era una bellissima idea. Però adesso parliamo di quello che è stato varato stasera. Francesco, stavamo cercando di capire l'efficacia del nuovo quarto decreto sull'immigrazione. I minori, i minori, vuoi sapere i minori? I minori, non è vero che vengono abbandonati se stessi. I minori dai 16 ai 17 anni, qualora fossero pieni i centri ordinari, i centri per minori ordinari, verranno a essere inseriti in sezioni apposite dei centri ordinari per adulti in una misura temporale non superiore ai nove mesi. I minori verranno sottoposti ad un controllo straordinario soprattutto dopo l'accuratezza dell'accoglienza, quindi non potranno essere superati il 50% della capienza, non potrà essere superato il 50% della capienza dei centri. Francesco Specchia, aspetta... Si cercherà di fare qualcosa, non si fa tutto. Allora, non si fa tutto, avvocata Falcone, oggi la CEI ha detto che misure solo di contenimento non fanno giustizia alla dignità umana, ma è vero che un governo che si trova a gestire un'emergenza e migrazione come stiamo vivendo in questo momento, deve fare anche delle norme e delle leggi cosiddette securitarie, no? Perché c'è anche un problema di sicurezza, non c'è solo un problema di accoglienza. Peccato che il problema di sicurezza con queste norme venga aumentato, venga incrementato e non venga affatto risolto. L'ho detto lo stesso Ministro Nordio, purtroppo aumentare le pene, così come ha fatto il governo, oppure aumentare i mesi di detenzione, perché di questo si tratta nei CPR. Adesso sentivo che addirittura i minori verranno trattenuti nove mesi, giusto il tempo che diventino maggiorenni e quindi di fatto, insomma, si possa applicare anche a loro la politica... La politica non lo interrompa, la pregherà di non interrompa. Sì, infatti anche io avevo letto tre mesi e già questo, insomma, è fortemente dubbio dal punto di vista costituzionale, ma violerebbe probabilmente anche un paio di convenzioni, la convenzione di New York sui diritti del fanciullo e qualche norma anche sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, su cui l'Italia già è stata più volte condannata. È passato al vaglio della Presidenza della Repubblica. Ma il decreto è uscito stasera, ancora il vaglio non l'abbiamo, mi scusi. Però la cosa che mi preoccupa di più, insieme a queste norme sui minori, che non arrivano a caso, perché l'aumento dei numeri è un aumento dei numeri che riguarda soprattutto i minori e i minori non accompagnati. Su questi minori viene trasferito l'onere della prova sulla loro minore età, una prova che i minori non sono praticamente mai in condizione da dare, non solo perché fuggono da paesi dove spesso anche gli adulti hanno difficoltà ad avere i documenti e figurarsi i minori, ma se poi c'è qualche dubbio... E con i falsi minorenni cosa facciamo allora? Innanzitutto, per quanto riguarda i minori, ci sono delle norme più favorevoli, c'è un divieto di respingimento. E allora per chiunque voglia applicare delle norme che diano un segnale populista, mi permetta di dirlo, sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Morcone, serve che cosa? Trasformarli anche artatamente in maggiorenni per poterli espellere. Le misure che si applicano e soprattutto questo criterio delle misurazioni antropometriche, tra l'altro è questo l'unico... Per misurare la vera età. L'età effettiva non solo viola la presunzione della minore età, ed è una presunzione che non riguarda solo i minori, ma riguarda qualsiasi soggetto che si trovi in una condizione di debolezza, ma è un criterio altamente fallace, questo lo dicono gli stessi medici. Quindi di fatto il governo si assume il diritto di sostituire un'età presunta all'età reale. L'età biologica non corrisponde in molti casi a quella che è l'età anagrafica. Allora, prefetto Morcone, ma lei che consiglio darebbe a questo governo sul fronte dell'immigrazione? Perché ricordiamolo che lei con il ministro Minniti, in quell'epoca lì avevate fatto gli accordi con la Libia, l'allora ministro dell'interno, che funzionarono, vennero molto contestati, soprattutto a sinistra, ma erano accordi che funzionavano. Quelli che ha fatto la Meloni con la Tunisia funzionano? Non mi sembra sinceramente che al momento abbiano avuto effetti, però io apprezzo lo sforzo della Presidente di portare anche la Presidente della Commissione Europea ed altri esponenti politici in Tunisia, perché effettivamente poi con quei governi devi parlare, devi trattare, devi trovare degli accordi e quella sicuramente è la strada per costruire con l'Africa naturalmente. Poi si tratta di vedere il contenuto degli accordi. Ma perché non sta funzionando l'accordo con la Tunisia? Perché continuano ad arrivare tantissimi migranti dalle coste tunisine? Leggo che l'Unione Europea, in particolare alcuni esponenti dell'Unione Europea, hanno ritardato il pagamento delle somme che erano state promesse, ma naturalmente non sono in grado di dare una valutazione. Quello invece che vorrei dire sull'accoglienza è che stiamo facendo enormi passi indietro. Avevamo costruito un'infrastruttura strategica che è quella dell'accoglienza diffusa, che è quella dei centri sparo, poi diventati si proime e oggi sai. Quella è la strada, quella è la strada per costruire un futuro di queste persone che siano parte della nostra collettività e non costruire marginalità che poi sì ci creeranno problemi di sicurezza. Se tu metti 300-400 persone in un centro, lì la costruisci di insicurezza. Ma probabilmente questo serve al governo, l'insicurezza serve al governo, la paura serve al governo per le prossime elezioni, ma io mi occupo delle persone e non dei consensi del governo. Francesco Specchia. Beh però, no io su questo sono d'accordo, su questo cioè l'azione di Miniti è stata la più straordinaria di un ministro degli interni negli ultimi dieci anni, se poi si esclude il fatto che Salvini comunque si è comportato molto bene nei contenimenti, seguendo la scena di Miniti. Io credo che quell'operazione lì, il fatto dell'accoglienza diffusa, fosse un'ottima idea. Ma lì sono stati fatti dei passi indietro, no? Oggettivi. No ma scusate. No, non sono stati fatti, però perdonami. Ma no, ma Francesco, ma fatemi finire. Sì, no, sono un tre. Sono una precisazione però. Fammi finire Massimo, sono in collegamento. No, no, fammi finire. Il fatto che oggi, il fatto che Schulz abbia appoggiato in toto, dopo la lettera di fuoco di ieri, la Meloni, sul tema dei migranti, e si sia, come dire, aggiunto all'idea strategica di un piano che dovrebbe coinvolgere tutti i 27 membri dell'Unione Europea all'interno di un patto d'acciaio tra Francia e Germania, grazie anche all'intervento di Emmanuel Macron, vuol dire che tendenzialmente la Meloni, alzando la voce, non ha tutti i torti. Perché fondamentalmente i risultati non sono arrivati, bisogna ammettere, non sono arrivati quei risultati che ci si aspettava, l'ha messo anche lei. Però, oggettivamente, se Francia e Germania... Allora, no, scusami, volevo solo ricordare... Scusami, per chi non si ricordasse, questo è il patto sui migranti che stanno discutendo da tempo i 27 paesi dell'Unione Europea. Non è il patto piano Meloni, questo giusto così per... per integrare l'informazione. No, no, beh, parte dal patto del Quirinale, perché parte, prende l'esperiazione, prende l'esperiazione dal patto del Quirinale fatto con la faccia. E questo patto del Quirinale... Guarda gli investimenti, non tanto spingi... Allora, lasciamo finire Specchia, poi Giannini e Falcone. Il fatto che Francia e Germania, che fino all'altro ieri hanno chiuso le porte e avevano attuato un'azione denigratoria, parlando di barbari addirittura, della politica dei flussi migratori della Meloni, il fatto che oggi, tra oggi e ieri, l'abbiano appoggiato in toto, vuol dire che c'è qualcosa che comunque sia degna di nota, vuol dire che quella è la strada giusta. Poi bisognerà aspettare, secondo me, le europee, perché alla fine poi non si risolverà mai questo problema se non cambiamo il trattato di Lisbona o di Dublino. Questo è ovvio. Posso dire solo alcuni chiarimenti. Allora, intanto che Francia e Germania appoggino in toto la Meloni, mi sembra un po' un altro esempio di velleità, perché non è così. Non hanno detto bene le politiche migratorie adottate dal governo Meloni. No, dicono giustamente, e questo lo dicono tutti, viva Dio, non bisogna lasciare solo l'Italia. è altro discorso. È chiaro che il tema è europeo, è chiaro che il tema è globale, questo lo sappiamo tutti, però due precisazioni rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora. Minniti, ottimo, l'accordo con la Libia, ottimo, peccato che sia durato molto poco, essendo che la Libia era un paese completamente disarticolato, in mano a due governi differenti, è peccato che in Libia si sia prodotta una macelleria umanitaria senza eguali, della quale noi non ci siamo occupati. Possiamo non occuparcene, figuriamoci, possiamo dire noi vi diamo i soldi, poi voi ve li tenete lì, li macellate nei lager, a noi non ci riguarda, basta che non partono. Perfetto, è una strategia, a me sembra aberrante, ma è una strategia. Altra questione fondamentale che però dà il segno, perché di questo stiamo parlando, è chiaro che è un problema difficilissimo, ma che segno dà questo governo? Ha detto bene Morcone, è tutto un problema elettorale, gli è esploso in mano il tema migranti e adesso devono fare la faccia feroce, non conta l'efficacia delle misure. Gli SPRAR, di cui parlava il prefetto Morcone, li ha aboliti... Per l'accoglienza diffusa. L'accoglienza diffusa dei comuni, dei piccoli centri, che ora si dice dobbiamo ripristinare. Lo sapete chi li ha aboliti? Lo sai Francesco? Salvini. Salvini con i decreti sicurezza, spiace dirlo, con il presidente Giuseppe Conte che gli faceva da uomo sandwich, con in mano il cartello. Allora, ripeto, il problema è guadagnare un po' di voti o provare con tutte le difficoltà del caso a risolvere insieme agli altri paesi il problema dei migranti o mitigarlo. Perché continuare a agitare il piano Mattei, il piano Tunisia, è un'utopia. Perché dice non funziona? Perché non esiste. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato una prima tranche di milioni a Caïs Saïed, che è un dittatore. Mestro Fiantedosi adesso ha messo che sono accordi molto complicati. E nel frattempo alza ogni volta la posta, perché quando ti metti in mano a quelli, dici va bene, ma oggi mi dai 100, l'anno prossimo mi dai 500, se no ripartono tutti. Capisco che è complicato. Allora, invece di dire che è un grande successo... Perciò deve dire l'Europa... Ecco, va bene Francesco, però almeno non ci dicano che è un grande successo, che è una svolta storica. Ci dicano stiamo provando a fare quello che possiamo, i dittatori sono dittatori, questo piano è un tentativo, ma non è detto che riesca. Invece viene tutto spacciato come la soluzione del problema. E invece il problema non si risolve. Faranno altri nove decreti cutro, faranno la faccia cattiva sempre e continueranno ad arrivare. E questo resterà un grande campo di concentramento. Specchia rapido, che poi con l'Avvocata Falcone voglio passare... No, velocissimo, solo per dire, io sono d'accordo, è un problema atavico, endemico, dell'Europa eccetera, ma guarda che la Meloni ha detto esattamente quello che stai dicendo tu adesso l'altro giorno. È l'unico punto su cui vi trovate d'accordo. Cioè lei ha detto... Non me ne ero accorto. Esattamente. Non me ne ero accorto. Ma qui qualunque fesseria fanno è un passo avanti storico. Qualunque scemenza è storica. In realtà no, bisogna dire... Ma non questo. Ma non questo. lasciamo a gestire il tema. No, ma l'ha detto anche lei. Ti voglio... Vuoi che ti... Ma non l'hanno detto. Te le leggo, guarda, c'è l'ho quale dichiarazione dei mesi scorsi. Ti sto dicendo che non ha esaltato... Ma non ha esaltato il piano Mattei dicendo un grande successo. Abbiamo avuto dei problemi, su questo l'ha riconosciuto. Almeno questo. Hanno avuto dei problemi dopo di non seguire lo stesso criterio securitario. Guardi, l'ha detto anche Nordio in una recente intervista. Aumentare le pene, alzare la voce, non risolve il problema. Allora, forse c'è la volontà di non risolvere quel problema. L'ha inserita in un discorso più grande sulla revisione della pena. Allora, allora, io vorrei portarvi su un altro tema. Non sapevamo bene se farvi qualche domanda su questo spot di una nota catena di supermercati che ha fatto discutere tantissimo. E quindi, siccome è intervenuta la Presidente del Consiglio, allora abbiamo detto vabbè, forse bisogna trattarlo rapidamente questo tema. Allora, lei lo ha visto, immagino questo spot di una coppia separata, borghese, che vive bene, chiarissimamente, con questa bimbina che deve in qualche modo fare da pacere tra mamma e papà che si sono separati. Questo è quello che, diciamo, si capisce dal messaggio pubblicitario. E la Premier Meloni intanto è intervenuta su uno spot pubblicitario di un'azienda privata e ha detto che l'ha trovato bello e toccante. Lei? Io l'ho trovata imbarazzante. Innanzitutto perché questa strumentalizzazione dei minori su delle situazioni così delicate come quella delle coppie serverate e oggi in Italia sono tantissime e qualcosa che tra l'altro attribuisce una responsabilità a una bambina che chiaramente non può avere. Quasi suggerendo che questa bambina viva male questa situazione. Sicuramente nessun figlio vive bene la separazione di un genitore. Però ci sono tanti bambini che vivono peggio in famiglie dove i genitori non vanno d'accordo, litigano continuamente e la crescita dei bambini è fortemente compromessa. Quindi intervenire a gamba tesa responsabilizzando una bambina di una cosa che chiaramente non solo non è sua responsabilità ma sicuramente non può intervenire suggerendo un modello ideale La pubblicità fin quando non infrangono delle regole e delle leggi la pubblicità la creatività pubblicitaria è libera. Quello che forse colpisce di più è che intervenga una presidente del Consiglio su uno spot pubblicitario. Assolutamente ma lei interviene chiaramente perché il modello che tende a suggerire è un modello che purtroppo non è realistico per i nostri tempi. Questa è una coppia che tra l'altro si è separata forse perché va anche i soldi per potersi separare. Sì, è chiaramente una famiglia borghese colpevole anche una politica economica che non lo possono fare perché non hanno i mezzi economici. Francesco Specchia tu che idea ti sei fatto? Di primo occhietto ho pensato ad una fesseria ma non sulla Meloni ho pensato ad una fesseria riguardo a tutto il boom mediatico la bolla mediatica che si è scatenata attorno abbiamo altri a cui pensare. Poi mi sono chiesto perché la Meloni è intervenuta e facendo due o tre telefonate mi hanno detto che in realtà c'è un discorso anche di marketing politico alla vigilia di elezioni ma è anche un modo per puntare l'attenzione alla vigilia della Nadef cioè dell'anticipo della legge di bilancio su due elementi fondamentali uno è il discorso della famiglia perché la famiglia col taglio del curio tutto questo discorso qui è uno dei pilastri della nuova legge di bilancio la seconda è tendenzialmente legata a quello che ha detto Giorgetti due mesi fa qua la domanda scusa per le pensioni come ci regoliamo Giorgetti aveva detto guardate con questa denatalità qui le pensioni non ci arriveremo mai quindi ha fatto bene la Meloni a commentare questo spot pubblicitario di un'azienda privata evidentemente ha fatto evidentemente dal suo punto di vista ha fatto bene se si trattava di utilizzare quello spot per fare uno spot pubblicitario la sua stessa legge di bilancio a me personalmente a me personalmente lo spot non è dispiaciuto anzi è fatto bene naturalmente vuole mandare un certo tipo di messaggio parla alla famiglia tradizionale ma la pubblicità è sempre stata così il mulino bianco la famiglia del mulino bianco è stato il simbolo di questo paese per almeno un ventennio le aziende private se rispettano le norme fanno la pubblicità che vogliono è assurdo che come dice adesso anche Francesco che la presidente del consiglio abbia pensato di usare questo spot come marketing politico per la sua Nadef per la sua prossima manovra finanziaria non c'è nulla di manovra siamo alla farsa non c'è nulla siamo al solito l'italietta ma è ridicolo dai ma non c'è mai visto ma tu ce lo vedi ma tu ce lo vedi Macron o Scholz Macron o Scholz che commentano una pubblicità di un'azienda privata che va in televisione dicendo bella perché così sostiene il loro modello di famiglia ma è ridicolo diciamo che è un po' iniziale anche io mi pare una situazione situazionista cioè uno sbuffo situazionista tutto questo siamo a debordo puro ma al di là di questo ma questo è vero ma la colpa è della presidente del consiglio scusate Francesco non è che Francesco specchia ho capito è intervenuta è una strategia è chiaramente una strategia per chiarire con le spettatrici e gli spettatori abbiamo deciso di parlarne perché è intervenuta la presidente del consiglio se no non l'avremmo fatto perché noi non vogliamo fare marketing pubblicitario ulteriore per nessuno tant'è che manco abbiamo citato la catena dei supermercati ma invece è stato fantastico perché credo che i proprietari stiano molto felici adesso va bene è comunque una situazione un po' strana ma non ci hai mai visto dai voglio farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci porta al tema drammatico della violenza contro le donne dove i numeri sono sempre più drammatici guardate ogni anno circa 50.000 donne cercano riparo e assistenza in un centro antiviolenza o in una casa rifugio ma sono molte di più quelle che vorrebbero farlo e non ne hanno il coraggio perché spiegano non possono mandare in carcere il padre dei loro figli la violenza domestica è un enorme sommerso che si intravede solo in occasione dei femminicidi quest'anno già più di 80 il 40% delle donne che si rivolge a un centro lo fa a oltre 5 anni dai primi episodi di violenza subita 6 su 10 sono madri il 94% chiede di essere ascoltata e il 74% spera di essere accolta le altre due richieste più frequenti riguardano l'assistenza legale e quella psicologica quanti crimini hanno impedito i 373 centri antiviolenza e le 432 case rifugio non lo sapremo mai sappiamo però che questa preziosissima rete di autodifesa fatica a finanziarsi e in molti casi sopravvive grazie al volontariato promossa dalla fondazione una nessuna centomila e dall'associazione differenza donna questa settimana è in corso una raccolta fondi a sostegno dei centri antiviolenza italiani è stato rinviato il concerto previsto all'arena di Verona ma gli artisti che avevano risposto all'appello di Fiorella Mannoia hanno deciso di esserci ugualmente attraverso i video a sostegno della campagna l'intero ricavato della raccolta andrà a favore di centri che rispondono a criteri di trasparenza e inclusività dando priorità al sud alle periferie e ai contesti particolarmente critici accadde già l'anno scorso con 200 mila euro versati a ciascuno dei sette centri antiviolenza coinvolti nel progetto quest'anno ci sono obiettivi più ambiziosi perché la situazione è più drammatica siamo in chiusura grazie prefetto Morcone grazie Francesco Specchia grazie Anna Falcone grazie Massimo Giannini grazie spettatrici spettatori vi lascio ad Atlantide presenta il film Truth il prezzo della verità con Kate Blanchett e Robert Redford quindi state con noi e noi come sempre domani 8 e mezzo arrivederci arrivederci